Meno espositori a causa della presenza di cantieri e niente bancarelle in Piazza Duomo, già occupata dalle casette di legno del mercatino di Natale e dalla pista di pattinaggio. Torna il 5 gennaio, dalla mattina fino alla sera la tradizionale Fiera dell'Epifania all'Aquila, un appuntamento di punta per la città sempre attesissimo. A presentarlo in comune questa mattina l'assessore al commercio Alessandro Piccinini. Siamo pronti per questa edizione della Fiera dell'Epifania. Quest'anno siamo impegnati un po' più del solito, visti le ragioni di sicurezza dopo i fatti di Torino che ci sono stati chiesti. Siamo giorni che siamo qui in comune con tutti i vari settori per cercare di organizzare nel modo migliore possibile la Fiera dell'Epifania. Ci saranno all'incirca 330 espositori, quindi siamo in linea più o meno con i numeri dell'anno scorso, nonostante nel centro storico ci siano più cantieri, quindi alcune zone le abbiamo in qualche modo dovute delimitare. Ci sarà un controllo capillare su tutta la zona, ci saranno individuate e spiegate delle vie di fuga, la manifestazione partirà dalla parte dell'ingresso della villa, avrà tutto un circuito per arrivare più o meno all'altezza della fontana luminosa. Questi sono i numeri di questa manifestazione importantissima. Questa è la nostra prima edizione, quindi ovviamente ci siamo molto impegnati a che abbia una riuscita soddisfacente. Stiamo lavorando anche per un format per i prossimi anni, in modo da non farci trovare impreparati. Ci aspettiamo un discreto afflusso di gente, speriamo anche da fuori regione, ci aspettiamo un gran numero di espositori da tutta Italia, quindi una selezione di prodotti varia. Le bancarelle riempiranno un anello che circonda il parco del Castello, via Le Gran Sasso, piazza Battaglione Alpini, via Tagliacozzo, via Malta, via Castello, via Zara, via Signorini Corsi, via Pampilo Tedeschi, via San Bernardino, Corso Vittorio Emanuele, e poi da Capopiazza fino alla Villa Comunale, interessando tutto Corso Federico II.